Fiat Panda in fiamme, oggi pomeriggio nel parcheggio del supermercato Eurospin di via Nazario Sauro a Paternò a determinare le fiamme un cortocircuito alla vettura alimentata a benzina e GPL. Il tempestivo intervento del vigilante, se in servizio al supermercato e del responsabile della struttura commerciale, hanno permesso di allontanare l'auto da altri mezzi nel tentativo di domare poi le fiamme. Nonostante il tempestivo intervento con l'utilizzo di un estintore, il fuoco ha continuato a svilupparsi. Da qui la necessità di allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, subito intervenuti a spegnere il arrogo sul posto, l'arrivo anche dei carabinieri. Buonasera, ben trovati per questo spazio con l'informazione di Ciac del Sud che apriamo con la cronaca. È prevista per il prossimo 21 ottobre la prima udienza del processo per il trentenne paternese Salvatore Russo, accusato di duplice omicidio e di tentato omicidio a seguito della violenta elite che scoppiò ad Ucria un anno fa e che costò la vita a due persone. Il servizio di Gabriella Cerino, vediamo. Attende ancora sviluppi, a quasi un anno di distanza, la tragica vicenda di cronaca che l'estate scorsa ha colpito la comunità cittadina di Paternò. Era infatti il 15 agosto 2019 quando il paternese Salvatore Russo, durante le sue vacanze con la famiglia, si trovò ad impugnare una pistola, a colpire mortalmente Antonino e Fabrizio Contiguia e a ferire un terzo esponente della famiglia Contiguia-Salvatore. Il fatto avvenuto ad Ucria, lo ricordiamo, era precipitato a seguito di una lite per il parcheggio riservato ai disabili dell'auto. Dalle prime dichiarazioni Russo ha riferito di avere sparato per legittima difesa con una pistola calibro 7,65 strappata ai Contiguia che lo affrontarono in gruppo per la presunta occupazione abusiva di un parcheggio invalidi della loro famiglia. Ma più tardi le indagini della procura e dei carabinieri di Patti hanno appurato che la pistola era la sua, visto che fu trovata nel giardino della sua abitazione di Paternò dai militari nascosta in una botola. In un successivo interrogatorio Russo stesso avrebbe infine ammesso che la pistola era di sua proprietà ed era stata acquistata al mercato nero nel 2017 da un rivenditore rumeno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dunque, il Russo, tra il 14 e il 15 agosto, a seguito delle minacce ricevute dai Contiguia, sarebbe rientrato a Paternò, avrebbe prelevato l'arma detenuta illegalmente e sarebbe ritornata a Ducria, dove la sera del 15 avrebbe affrontato per difendere se stesso ed il proprio cognato, o anche egli coinvolto nella lite, i componenti del nucleo familiare Contiguia, ripresentatisi per regolare la questione parcheggio scoppiata la sera prima e determinati a farsi giustizia. Le perizie e i rilievi balistici avrebbero confermato che intorno alle ore 21 del 15 agosto del 2019 Salvatore Russo avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni la pistola una beretta calibro 7,65 con matricola a brasa per sparare a bruciapelo un colpo contro Antonino Contiguia, morto all'istante, poi contro Fabrizio Contiguia, anche lui morto sul colpo, e infine contro Salvatore Contiguia, raggiunto da tre proiettili e rimasto ferito. Come detto, la drammatica vicenda rimane ancora aperta. Il Gup di Patti, Andrea Apollonio, a conclusione dell'udienza preliminare, ha deciso il processo per il macellaio trentenne di paternò Salvatore Russo accusato di un duplice omicidio e di un tentato omicidio. Il processo, davanti alla Corte d'Assise di Messina, è fissato per il prossimo 21 ottobre. E ancora la pagina di cronaca è stato il marito ad uccidere Caterina, Katia Di Stefano, 46 anni, operatrice socio-sanitaria in una comunità per disabili. L'omicidio ieri pomeriggio a Caltagirone. Giuseppe Randazzo, 50 anni, arrestato dalla polizia come il responsabile dell'omicidio, ha dichiarato in un primo momento che la moglie era caduta dalle scale del palazzo nella quale abitano in via Pietro Mascagni, nella zona nuova di Caltagirone, ma con il passare delle ore questa versione è apparsa sempre più improbabile, anche grazie alle testimonianze raccolte dalla polizia da parte dei vicini di casa che hanno dichiarato di aver sentito una violenta lite sulle scale tra marito e moglie. La coppia era in crisi e i due si stavano separando, anche se continuavano ad abitare sotto lo stesso tetto. A lanciare l'allarme sono stati i propri vicini. Quando la polizia è arrivata, il corpo di Katia era riverso nell'androne del palazzo e il marito era in stato confusionale. E adesso parliamo dei casi Covid. A Paternò salgono a 15 i casi. Gli ultimi in ordine di tempo sono due parenti della tredicesima contagiata. Salgono a 15 i casi Covid a Paternò. Gli ultimi due casi sono riconducibili allo stesso nucleo familiare dell'ultima contagiata. Si tratta del marito e di un figlio. A darne la notizia il sindaco Nino Naso. Oltre un centinaio i tamponi effettuati dall'ASPA di Katania in questa seconda ondata di contagi a Paternò. Quattro le persone che restano in ospedale. Si tratta dei primi due contagiati, due anziani di 80 e 88 anni e di due donne. Sindaco, ancora nuovi casi di Covid. Siamo saliti a 15 ai cittadini. Si raccomanda prudenza? Raccomandiamo prudenza ai cittadini. Naturalmente appena arrivano i tamponi, sappiamo che se ne sono fatti tanti. Qualche caso aumenta. È chiaro che chiediamo noi sacrifici ai cittadini, chiediamo di rispettare le regole, l'uso della moscherina, la distanza di sicurezza, l'assembramento. Ma io però chiedo anche allo Stato più attenzione, perché tutti i sindaci siamo in trincea per fare sacrifici alle nostre comunità. Però poi vedo che dai centri o dall'imbarcazione scappano immigrati che sono positivi. Quindi non sappiamo dove vanno. Ci sono ancora equivoci e non chiarezza per la gente che viene da fuori. Quindi anche lo Stato deve essere molto chiaro e deve aiutare i sindaci che sono in trincea. Sennò poi la gente finisce che non ci ascolta più. Quindi regole chiare, regole certe, attenzione, ma tutti quanti dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter agire, di poter trasmettere messaggi ai nostri concittadini. Sindaco, nonostante i 15 casi, la situazione pare comunque sotto controllo. L'attenzione è stata massima fin da subito da parte dell'ASP, quindi si sono controllati. Insomma appartiene quasi tutti allo stesso nucleo familiare. Diciamo che forse solo questi ultimi tre casi non sono fuori da quel nucleo. Sono fuori, però sembrano che l'evento sia unico. La zona è circoscritta. Certo, si sta lavorando a 360 gradi. Devo dire che da parte dell'ASP, devo ringraziare i vertici dell'ASP, in particolare il commissario dell'ASP, il dottore Liberti, su subito si sono eseguiti i tamponi. Ecco, c'è una sinergia immediata. I nostri vigili urbani stanno facendo le indagini, si stanno muovendo tutti quanti. Prudenza, dobbiamo convivere con questo virus. Io non voglio lanciare allarmismi, perché è giusto che si viva, è giusto che ripartano le attività commerciali, però dobbiamo essere prudenti. Se no, rischiamo di tornare indietro e non lo possiamo fare. Non ce lo possiamo più permettere. E salgono i casi di Covid anche ad Adrano. Salgono a due. Il numero totale in questo momento è due. Ad essere stata colpita dal virus una donna, adesso ricoverata al San Marco di Catania. La Sicilia sul fronte Covid-19. Si conferma purtroppo la regione con l'indice di contagio più alto in Italia. Altro caso di coronavirus ad Adrano e adesso salgono a due casi di infezione accertati in città. Dopo la donna rientrata dalla Romania, contagiata sintomatica e posta in isolamento domiciliare, un'altra donna residente ad Adrano è risultata positiva al tampone. Si tratterebbe di un caso non riconducibile al primo, come ci ha confermato il sindaco di Adrano, Angelo Dagate. Ovviamente, come da protocollo sanitario, l'aspe di Catania si è attivata immediatamente per intracciare i contatti avuti dalla donna è risultata positiva all'infezione. Per la donna contagiata si è reso necessario il ricovero in ospedale al San Marco di Catania. La prudenza deve prendere il sopravvento su tutto in questa fase delicata del contagio. E prudenza significa avere atteggiamenti virtuosi e responsabili per bloccare la trasmissione del virus. Evitare assembramenti, usare la mascherina nei luoghi chiusi, ma anche all'aperto dove non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro e igienizzare le mani sono regole fondamentali che vanno rispettate e attuate. La Sicilia sul fronte ai contagi nell'ultimo periodo ha visto schizzare pericolosamente i casi di coronavirus, tant'è che l'isola per la seconda settimana di fila ha l'indice di contagio più alto d'Italia, nonostante sia sceso da 1.67 a 1.41. E ancora la cronaca, rancori personali legati a precedenti contrasti tra organizzazioni criminali contrapposte. Il momento della sparatoria avvenuto l'8 agosto scorso nel popoloso quartiere di Librina Catania dove sono morti Luciano D'Alessandro di 48 anni, Vincenzo Scalia di 29, e ferite altre 4 persone di 26, 31, 40 e 56 anni. E quanto emerge dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catania che su disposizione della procura distrettuale etnea hanno eseguito il fermo di 5 indagati accusati di duplice omicidio, tentato omicidio plurimo per agevolare il clana dei cursoti milanesi. Due dei 5 fermati pressati dai carabinieri si sono costituiti nella sede del comando provinciale dell'arma in piazza Verga Catania. I particolari dell'operazione spiega una nota della procura di Catania. Verranno comunicati all'esito dell'udienza di convalida del provvedimento in programma per lunedì prossimo. Un uomo è stato aggredito da due cani, l'uomo era rimasto bloccato con l'auto, per lui la necessità di ricorrere alle cure dei sanitari. Vediamo. È stato selvaggiamente aggredito da due cani, non chiaro se sono randaggi, nella zona di via dello stadio sul finire di Corso Italia a Paternò. Un'aggressione violenta, come denuncia l'uomo, con il malcapitato ferito in maniera seria, alle gambe e ad una mano. Tutto è cominciato quando l'uomo, il signor Filippo Mazzamuto, stava percorrendo la parte bassa di Corso Italia con la sua auto. Da qui un guasto al mezzo che lo ha costretto a scendere dalla vettura. Senza accorgersene, come racconta, sono arrivati i due cani che, senza abbaiare, lo hanno azzannato alle caviglie. A salvarlo, una persona che abita in zona che ha allontanato i cani ha caricato l'uomo sulla vettura. Per lui, ampi squarci e profondi buchi ai polpalci delle due gambe, con l'uomo che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Santissimo Salvatore per farsi medicare. Per lui, circa 20 punti di sutura in diverse parti delle gambe ed una grande paura. E questa, purtroppo, come racconta un professionista paternese che ha aiutato l'aggredito, non è la prima vittima degli ultimi giorni. La stessa coppia di cani pare abbia aggredito almeno altre due persone negli ultimi giorni. Da capire, come detto, se si tratta di randaggi o di cani di proprietà lasciati incautamente liberi. Altro fatto incredibile di questa vicenda è che l'uomo ad oggi non è riuscito a presentare denunce alle forze dell'ordine. Saranno i giorni di vacanza con il personale ridotto al minimo perché in ferie, ma sia i carabinieri che i vigili urbani lo hanno rimandato per raccogliere la sua voce. Il cambio di argomento, parliamo adesso di esodo estivo, fine settimana da bollino rosso, questo appena cominciato per le strade italiane boom di spostamenti da nord a sud. Alessandro Paternese. L'estate è ormai entrata nel vivo e oltre al tipico caldo siciliano, porta con sé consueti esodi estivi su strade e autostrade. Già da diverse settimane l'ANAS, che in tutta Italia gestisce più di 30.000 km di rete stradale, ha avviato tutta una serie di controlli e monitoraggi per tenere sotto osservazione la situazione viaria, sviluppando diversi protocolli volti ad alleggerire l'impatto del traffico. Dai dati delle ultime settimane emerge un picco di affluenza in continua crescita, sintomo che, nonostante l'emergenza Covid, il turismo interno è vivo, per lo meno quello a breve termine, legato alle vacanze nel weekend e al ridosso del ferragosto. Proprio per il ferragosto si prevedono già lunghe code e confusione al ridosso di caselli e imbarchi per traghetti, con traffico intenso ma scorrevole sul resto della rete stradale. Anche per questo l'ANAS ha annunciato di voler smantellare tutti i cantieri non stabili, al fine di rimuovere ulteriori ostacoli e rallentamenti, che renderebbero ancora più difficoltosi gli spostamenti dei vacanzieri. Uno dei dati più importanti degli scorsi giorni riguarda le lunghe code per i traghetti verso la Sicilia, con tempi di attesa per gli imparchi giunti fino a tre ore, dato importante per l'isola che, perlomeno, farebbe ben sperare in termini di economia e turismo. Per cercare di fornire assistenza e controllo agli automobilisti imbottigliati nel traffico, il personale di ANAS della Protezione Civile è stato impegnato nella distribuzione di bottigliette d'acqua presso l'area dei caselli e degli imbarchi. Inoltre, la società stradale fa sapere che è possibile informarsi in merito alla situazione viaria tramite il sito www.stradeanas.it o attraverso i canali social digitando l'hashtag Esodo Estivo 2020. Si raccomanda a tutti coloro che decideranno di spostarsi in prossimità del Ferragosto, con particolare attenzione per giorno 14, di munirsi di acqua fresca a bordo, di guidare con cautela e, ove possibile, organizzare gli spostamenti evitando le ore più calde e trafficate. Torniamo alla cronaca. Chiunque abbia visto qualcosa dopo l'incidente nelle campagne si faccia avanti, chiami la polizia, io amo mio figlio e lo voglio trovare. È l'appello commosso lanciato tra le lacrime da Daniele Mondello, padre di Gioele. Il piccolo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto, insieme alla madre Viviana Parisi, la DJ di 43 anni, trovata poi morta nelle campagne di Caronia, nei pressi dell'autostrada A20 Messina-Palermo. E adesso cambiamo ancora argomento. Cosa cambia in Sicilia sulla fronte dell'urbanistica dopo la recente riforma? Lo spiega l'architetto Francesco Finocchiaro ai nostri microfoni. Parliamo della questione urbanistica. La regione siciliana ha recentemente approvato, varato, una nuova riforma. Dovrebbe cambiare tutto, in particolare a Paternò cosa potrebbe accadere? Intanto la legge è in corso di pubblicazione, quindi aspettiamo la pubblicazione ufficiale che dovrebbe venire, penso, ormai a giorni. Il Comune di Paternò ha un piano regolatore che è decaduto già dal 2008, quindi ha l'obbligo della revisione. Questa nuova riforma urbanistica, che arriva dopo 42 anni di attesa, apre degli scenari nuovi sul piano degli obiettivi, delle strategie, delle modalità e delle metodologie. Quindi è un fatto che secondo me noi dobbiamo cogliere con grande attenzione e usarlo per rilanciare questa città. È importantissima questa riforma, come diceva lei, arriva dopo 42 anni. In particolare, quali lacune va a colmare? Sicuramente punta su una criticità. Quella della poca attenzione al paesaggio e all'uso del suolo. Quindi questa normativa introduce il concetto di uso del suolo zero, coerentemente a quelle che sono le indicazioni nazionali ed europee, introduce una maggiore sensibilità nei confronti del paesaggio e quindi mette al primo posto non tanto l'espansione, ma l'aggiustamento, la ricuscitura del territorio. Proprio il punto nodale di questa norma probabilmente è quella di voler aggiustare i territori compromessi da edilizie prive di qualità architettonica, interventi che hanno snaturato il paesaggio agricolo, per esempio. Un altro punto importante di questa legge è proprio l'attenzione al verde agricolo. Il verde agricolo è stata un po' la cenerentola dell'urbanistica negli ultimi anni, c'è un luogo quasi residuale, le maggiori attenzioni sono per l'edificabilità. Invece in questa normativa il verde agricolo è trattato con attenzione, con approfondimento, diversificato, articolato e quindi questo ci permetterà di valorizzare i nostri territori rurali, i nostri territori naturali e anche tutto quello che è il patrimonio più in generale culturale e naturalistico. Quindi da questo punto di vista è un fatto molto positivo. Ha toccato una nota dolente, forse quella degli ultimi anni per Paternò, quando ha parlato di verde agricolo. Dalla giunta Failla in poi, con le norme tecniche d'attuazione, tutte le giunte, quindi Failla, Mangano, Mangano e la giunta Naso, stanno tentando di modificare le norme tecniche d'attuazione, tentando di poter edificare in area agricola. La normativa pare vada in direzione totalmente opposta. Sì, assolutamente in direzione opposta. Questo desiderio, questa attenzione di edificare il verde agricolo con i capannoni agricoli, che è una tensione appunto ormai storica e che non è giustificata da elementi di mercato, cioè non c'è una giustificazione nel mercato, la nuova normativa la vieta assolutamente, la ridimensiona, la condiziona degli studi molto approfonditi. Cioè, fino a poco tempo fa era facile immaginare un capannone agricolo in verde agricolo. Oggi per poterlo fare bisogna che il territorio sia adeguato e se è di pregio ambientale non si può fare, ma soprattutto ci vuole una giustificazione imprenditoriale. Cioè, un documento necessario è il layout imprenditoriale, il programma di investimento imprenditoriale, che chiaramente giustifica l'intervento. Il dimensionamento non è più solo un fatto matematico di moltiplicazione di valori, ma deve essere giustificato da un progetto economico. E questo significa che chi ha veramente un'esigenza economica, ovviamente, si imbarca in questo tipo di situazione. Chi lo faceva solo per speculazione, per investimento, ovviamente, è chiaramente scoraggiato. Quindi, da questo punto di vista, la legge è molto importante. E vorrei aggiungere che la normativa punta molto sulla qualità dell'architettura, sulla qualità delle metodologie di progetto, introduce l'obbligo dei concorsi di idee, dei concorsi di architettura. Il che cosa significa? Che non si può più trasformare una parte di territorio significativo in maniera puntuale, ma bisogna avere una idea di sistema, un'idea di insieme. Questo produrrà nel tempo, ovviamente, non è un fatto improvviso, produrrà nel tempo una maggiore qualità dello spazio urbano. E questo è un fatto importantissimo. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità. A dopo. Entriamo in studio con la notizia di un nuovo salvataggio. L'ennesimo avvenuto sull'Etna. Una giovane coppia di fidanzati che si era persa sul vulcano dopo un'escursione di 5 euro a piedi e senza attrezzatura adeguata nella Grotta del Gelo è stata soccorsa e salvata da militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. A dare l'allarme era stata la madre del giovane che non aveva fatto rientro a casa. Alle ricerche hanno partecipato anche i vigili del fuoco, dei distaccamenti di randazzo e lingua glossa. La coppia è stata trovata tra le isole di vegetazione di Contrada d'Agale a circa 1650 metri di quota, visibilmente sfiancata. I due soccorsi rifocillati sono stati portati sulla pista forestale Altomontana e poi a bordo dei mezzi di soccorso alla loro auto che avevano lasciato a piano Provenzana. E parliamo della giornata di Ferragosto, festa dell'assunta. Padre Giuseppe Calambrogio, che per l'occasione festeggia il 58esimo anniversario di sacerdozio, spiega ai nostri microfoni il significato di questa festa. Domani 15 agosto la Chiesa festeggia l'assunzione di Maria in cielo. Ecco, le chiedo, Padre Calambrogio, il significato di questa festa. Anzi tutto è una festa. E quindi è la festa di Maria Santissima assunta in cielo. Cosa vogliamo dire col fatto di festa? Beh, c'è forse una tendenza a fare coincidere la festa con il divertimento. Credo invece che la festa coincida con la gioia. Il divertimento è qualcosa di esteriore, la gioia è qualcosa anche di cuore, di intimo. Per dire, la gioia si vive nell'intimità della famiglia, il divertimento in una piazza con altre persone. Sono due esperienze umane diverse. Allora, quando noi diciamo festa dell'assunta, io direi proprio in questa maniera, è proprio una festa che a noi dà tanta gioia. Quale gioia? Direi la gioia del senso della nostra vita. In che senso? C'è un fatto della nostra vita che lascia tutti sopra pensiero, perlomeno. Ed è il fatto della morte. Di fronte a questo fatto della morte, la tentazione è quella del nichilismo, usando una parola che mi perdoneranno di carattere filosofico. Nichilismo significa il non senso di quanto esiste. E quindi è la negazione di tutto perché la morte distrugge ogni cosa. Ecco invece che nella nostra fede cristiana la salvezza consiste proprio nella salvezza della vita dell'uomo, anima e corpo. Per cui anche la realtà corporea, presente nel nostro corpo, viene salvata. Diremmo allora che l'assunta, la festa dell'assunta, ha una dimensione umana, ma anche, direi, cosmica. Cioè dire che riguarda il pieno adempimento della salvezza. Quella materia che corrompe viene salvata. E lo spirito sussume tutto nella presenza felice di Dio. Ovviamente ci si chiede se ci sono raffigurazioni della Madonna dell'assunta ad Adrano. Sì, ce ne sono due. Tutte e due molto belle. Quella più nota agli adraniti è sicuramente la pala d'altare che c'è nella chiesa matrice, nella navata di sinistra entrando in fondo. C'è un'immagine della Madonna in volo che viene accolta dagli angeli e dei santi, che è una meraviglia. Direi che quell'immagine della chiesa madre è il trionfo della grazia, intesa come bellezza interiore ed esteriore. L'altra immagine, sorrido nel dirlo, è quella che c'è nella chiesa di Santa Lucia, in alto sul tetto e che riproduce la forma classica rinascimentale della tipice dimensione, il sepolcro vuoto, la vergine in volo e il paradiso che l'accoglie. Ecco perché mi capita più volte, entrando nella chiesa di Santa Lucia e nella chiesa madre, di guardare con particolare attenzione queste due immagini. Tra l'altro, se mi permettete di dirlo, c'è un motivo particolare. 58 anni addietro, per la festa dell'Assunta, io sono diventato sacerdote. Con questo servizio è tutto, si chiude questo spazio con le informazioni. Io vi auguro una buona ferragosto e adesso vi lascio con le previsioni del meteo. Arrivederci!